Ciao a tutti, sono felicissima oggi di condividere con voi i miei ultimi acquisti in campo beauty in particolar modo e un regalo che ho ricevuto che mi fa veramente impazzire. L'avete visto dal titolo, sono stata da MAC in bioprofumeria e da Sephora. Partiamo molto velocemente da MAC, molto velocemente perché di alcune cose vi ho già parlato. Ho ricomprato, lo sapete ormai, il Fix Matte, che è il Fix Plus con effetto matte. Mi ho già finita una confezione, mi piace tantissimo, ve l'ho già parlato un sacco, quindi questo mi serviva, tra virgolette, e l'ho comprato. Ho fatto inoltre un Back to MAC, grazie a una mia carissima amica, tra l'altro, che consuma ciprie di MAC come non ci fosse un domani. A lei i rossetti non interessano e quindi mi regala i voti e sono molto fortunata in questo senso. A proposito del Back to MAC, vi dico due parole su come funziona, perché io lo do sempre per scontato, ma tutte le volte che ne parlo ho qualche domanda nei commenti, quindi vi dico due parole. Se riportate indietro sei prodotti, sei involucri, confezioni, in plastica o in vetro, anche non finite da MAC, potete scegliere un rossetto da avere in regalo. Ci sono alcune esclusioni in merito ai rossetti, comunque se andate sul sito ufficiale di MAC vi viene spiegato tutto. Come vi avevo già accennato, mi pare, volevo Rebel, io non lo possedevo, lo volevo assolutamente, questo rossetto iconico, famosissimo, che sembra scurissimo così nel bullet, ma in realtà lo swatcho, ma lo conoscete, è questo colore. Io ho visto che cambia tantissimo questo rossetto a seconda di chi lo indossa. Su di me è un prugna rosso fucsia, su altri molto più fucsia, dipende molto anche dalla pigmentazione delle labbra e dalla carnagione. È un rossetto meraviglioso e sono contentissima di essermelo accaparrato. Poi, come vi ho già detto in altri video, ma ci tengo a rispecificarvelo, MAC ha fatto delle mini taglie di rossetti, vedete la mini taglia è così, dei suoi rossetti più venduti. E secondo me è un'occasione ottima per comprare dei rossetti a un costo inferiore, mi pare che costi intorno ai 10 euro, e questo l'ho acquistato ovviamente, quindi per comprare dei rossetti che comunque hanno una discreta quantità, voglio dire, ci vuole tempo a finire un rossetto del genere, e vi dà l'opportunità appunto di provare il colore, che è quello che ho voluto fare con questo rossetto. Questo è il famosissimo Diva, che è un rossetto scurissimo. Io non porto ovviamente nel quotidiano rossetti così scuri, ma mi piacciono ogni tanto la sera. Devo dire che anche di sera ultimamente sono più su colori nude, perché punto tanto sul trucco occhi, però una cosa che vorrei fare, vorrei cominciare a sperimentare, specialmente con l'inverno, è fare trucchi anche naturali o glossi sugli occhi, per usare un po' di più sulle labbra. Voglio giocare un po' in questo senso, e questo rossetto me lo permette assolutamente. Contentissima tra l'altro di averlo in mini taglie, vi consiglio di pensare alle mini taglie, specialmente per rossetti che hanno colori che probabilmente non utilizzate tutti i giorni, quindi non ha senso averli in taglia grande. E da MAC abbiamo già terminato. Andiamo in bioprofumeria. In bioprofumeria, cioè da Mabel Bioboutique a Brescia, vi lascio qua sotto l'indirizzo. Perché è di Brescia? Perché è una bioprofumeria che ha tantissime cose molto interessanti. Io ormai sono una cliente fissa, ho comprato principalmente delle cose che mi servivano, perché avevo finito o stavo finendo. Allora, vi ho già parlato tantissimo anche di questo. Quest'estate si tratta dello Scrub Berry, di parentesi bio. È uno scrub viso e corpo, io lo uso solo per il corpo, con tre funzionalità. Perché si tratta di uno scrub meccanico, di un peeling chimico e di un peeling enzimatico. Tutte queste funzioni dovute principalmente agli ingredienti nei suoi contenuti. Ci sono mirtilli, fragole, olio d'oliva, uva e more. Questo è uno dei prodotti che forse negli ultimi anni mi ha stupita di più, da cui mi aspettavo forse meno, invece mi ha stupita veramente tanto. Lascio la pelle morbida, idratata, levigata, pulita. Lo adoro, è delicatissimo, anche su pelle sensibile come la mia. Nel mio avrò forse due utilizzi e poi l'ho terminato. E poi ho ricomprato la meravigliosa cappuccino di neve. Oramai è diventata senza ombra di dubbio la mia matita labbra preferita. Su di me questo è il nudo perfetto, che non va né troppo al marrone né troppo a rosa malva. È meravigliosa e senza questa non posso stare. La mia era un mozzicone, quindi l'ho comprata. Poi ho voluto prendere altre due cose che mi servivano, anche se non sono un backup in senso proprio. Allora, in un caso parliamo di questo prodotto di neve, che era famosissimo una volta, ma io credo di non aver mai provato. Si tratta della nuvola struccante, cleansing mousse, con bambù e amamelis. È una mousse che io voglio utilizzare al mattino, non come prodotto struccante, perché sto finendo il detergente che ho in utilizzo al mattino. Non avevo mai provato questo prodotto. L'idea della mousse, specialmente andando verso l'inverno, quindi di un prodotto morbido sulla pelle, mi ispira tantissimo e contenendo bambù e amamelis, nonostante questo prodotto si dichiari delicato, è anche leggermente astringente, quindi al mattino può essere un aiuto per avere poi un viso che rimane pulito e asciutto nel corso della giornata. E poi ho voluto comprare questo fondotinta in polvere di Puro Bio. Forse vi ricorderete, se avete visto, i miei decluttering, non quelli appena fatti, ma quelli dell'anno scorso, che io ho declutterato uno di questi fondi, perché il colore era sbagliato. Mi era stato regalato, ma era troppo scuro per me. Però l'avevo provato e mi era piaciuto a mia mamma, che è la persona che ha ricevuto quel fondotinta, è piaciuto tantissimo. Io sto finendo il mio fondotinta di Kiko in polvere, quello della collezione estiva, che ho usato tutta l'estate, e mi sono resa conto di essermi abituata tantissimo all'utilizzo del fondo in polvere nel quotidiano. Mi sono fatta un cassettino nel bagno, che uso principalmente quando mi preparo al mattino in velocità, con una sorta di trucco d'emergenza, trucco da 5 minuti, e il fondo in polvere è un alleato incredibile. Ovviamente più indicato se avete una pelle mista o misto e grassa, perché i fondi in polvere, logicamente, tendono a seccare un po' di più dei fondi liquidi o cremosi, però questo è un fondo molto morbido. Per come me lo ricordo, si fonde bene con la pelle, non va a insinuarsi nelle rughe, non va a enfatizzare zone secche del viso, almeno su di me. Io l'ho preso in colorazione, lo vedessi, ve lo direi, vi scrivo tutto sotto come al solito, mi pare sia la 2 comunque, non è la più chiara, è quella immediatamente dopo, il colore è perfetto, ha anche una discreta coprenza, ho visto rispetto alla colorazione precedente che avevo usato, e intendo utilizzarlo anche d'inverno. Se vi interessa, vi farò un video su quel cassettino del trucco d'emergenza. Guardate come tinge Rebel, è bellissimo questo rossetto. Dunque, e qui ho terminato anche il mio profumeria, mi sono stati dati dei campioncini, logicamente, allora, tutto di neve, la crema gianduiosa, la crema mirtillosa, e poi, un campioncino della Beauty Farm, che è il detergente, e maschera, che ho utilizzato tantissimo, mi piace un sacco, e lo sapete, se mi seguite, e poi due creme viso, che non ho mai provato, la crema eterea, e la crema sublime. Non vi ho detto neanche un prezzo, adesso ve li dico, visto che, incredibilmente, ho anche lo scontrino. Allora, il prodotto di parentesi bio, è costato, 19,90€, 18,90€, devo dire che, non costa poco, ma, quello che ho, mi è durato 3-4 mesi, come utilizzo anche di 2 volte alla settimana, e poi comunque, ne vale la pena, assolutamente. Il fondotinta compatto, di puro bio, 13,80€, la pastello neve, 5,80€, e la mousse struccante, detergente, 8,90€. E ora, andiamo a Sephora. Sephora, mi ha dato, delle enormi soddisfazioni, io non acquisto tantissimo, da Sephora, vado mirata, per delle cose specifiche, che non trovo in altre perfumerie, non per altro, ma perché non ce l'ho vicinissima, a casa, come sapete, se posso, preferisco, comprare, in negozio, anziché, sto giro, come vedete, ci sono andata, e ci ho dato dentro, tagliamo subito, la testa al toro, e vi dico, immediatamente, qual è l'acquisto, più importante, che ho fatto, e di lei, si tratta, della nuova palette, di ABH, Anastasia Beverly Hills, la Jackie Aina, l'avrete già vista, in un milione di video, swatch compresi, tutto quanto, la palette, si presenta così, ha un packaging, meraviglioso, fortunatamente, non più in vellutino, ma in questa, finta pelle martellata, e olografica, come vedete, io, vi avevo detto, in tante occasioni, compreso, l'ultimo, decluttering, che, possedendo, la soft glam, soltanto, di Anastasia Beverly Hills, ero, a posto così, nel senso, che, gli ombretti, delle palette, di Anastasia Beverly Hills, come tutti sapete, sono ombretti, che vanno conosciuti, cioè, non è, non sono le palette, di Anastasia, e le palette, per il trucco, da 5 minuti al mattino, ma una volta, scoperto come utilizzarli, per chi non lo sapesse, tendono a essere, piuttosto polverosi, nel momento, in cui prelevate il prodotto, e a fare un po' di fall out, in applicazione, una volta, che avete capito, come utilizzarli, io, principalmente, uso gli shimmer, con le dita, gli opachi, andando pian pianino, col pennello, non vado a scartavetrare, la cialda, appoggio il pennello, perché la pigmentazione, è incredibile, basta appoggiare il pennello, e procedo con la sfumatura, una volta, che avete capito, dicevo, il risultato, sugli occhi, del trucco, fatto con queste palette, è incredibile, per intensità, per durata, per effetto, io, quando uso, la Soft Glam, so, di sicuro, che, mi uscirà, sugli occhi, esattamente, il trucco, che avevo in mente, e non è una cosa, così scontata, comunque, avevo pensato, che, la Soft Glam, mi potesse, essere sufficiente, proprio, perché, comunque, vi ho detto, tante volte, che io ricerco, molto, la praticità, quando, mi avvicino, a un prodotto, make up, ma, vi avevo anche detto, che, se fossi stata, folgorata, da un, storia colore, da colori, pazzeschi, ci avrei pensato, io, ho, pensato, di acquistare, tutte le palette, di Anastasia, Vevelisse, ma, veramente, tutte, non la Modern Renaissance, semplicemente, perché, quando, ho cominciato, a avvicinarmi, al brand, ne avevo già, talmente, sentito parlare, che mi aveva stufato, già, pur non possedendola, anche se so, che è una palette splendida, ma, ho pensato, alla Norvina, ho pensato, tantissimo, alla Sultry, perché, credo, che sia, una palette, stupenda, ho, veramente, mi sono scervellata, sulla, subculture, perché, rispecchia tantissimo, come si chiama colore, il mio genere, quello che mi piace fare, sugli occhi, anche la Riviera, mi ha tentata, perché, comunque, trovo, che anche in quella palette, ci sia la possibilità, di combinare il colore, in un modo tale, per cui, anche chi usa il colore, ma non, quotidianamente, può sfruttare, una palette del genere, insomma, per farla breve, ho pensato a tutte queste palette, ma quando ho visto questa, io non ci ho pensato, questa palette, è la mia palette, mi rispecchia tantissimo, se mi conoscete, non ho, non ho dubbi, che capirete i motivi, ci sono dei viola stupendi, c'è questo rosso, fantastico, che è quello che ho, sugli occhi oggi, oggi è la prima volta, che mi trucco, con questa palette, c'è tutta questa parte, di questi colori, molto autunnali, che adoro, alla follia, è una palette fantastica, è una di quelle palette, che quando guardo, mi vengono già in mente, almeno, 4 o 5 combinazioni, per fare 4 o 5 look, completamente diversi, l'uno dall'altro, e non è una cosa, che capita spesso, quando si è in mano, una palette, ci sono delle palette, molto facili da utilizzare, che aiutano tantissimo, l'utilizzo, proprio per i loro layout, per il tipo di colori, che hanno all'interno, ve ne ho parlato tantissimo, ce ne sono alcune, come questa, che proprio, colpiscono tantissimo, la mia fantasia, di swatch, ne avrete visto un milione, vi faccio giusto, i miei preferiti, al colpo d'occhio, perché, ripeto, l'ho swatchata tutta, ma l'ho usata solo oggi, ma vedrete, che la userò tantissimo, questo è il colore, che ho sulla palpebra mobile, così vi dico, anche come ho realizzato, il trucco oggi, trovo che sia, semplicemente sensazionale, nella piega alta, ho fatto, ho messo, come transizione, questo colore, qui guardate che meraviglia, nella piega proprio, ho messo quest'altro, qui si tratta, dei soliti opachi, se volete, ma, sono qualcosa di eccezionale, all'angolo esterno, ho messo questo marrone scuro, ma guardate, la scrivenza, è qualcosa di incredibile, incredibile, poi cosa ho fatto, ho scaldato un pochino la piega, dopo aver fatto tutta la piega, con un colore meraviglioso, che è Supreme, che è un corallo pazzesco, un rosa corallo pazzesco, incredibile, bellissimissimissimo, ma sono un sacco i colori, che mi piacciono di questa palette, ah, nell'angolo interno, ho messo, Soleil, che è questo spettacolo, sulla qualità, la burosità, di questi ombretti, che cosa vi devo dire, sono rimasta folgorata, come si chiama, Dollars, Dollars, non lo so, che è questo oro brunito, verdastro, spero che in camera, si percepisca qualcosa, ma non credo purtroppo, è bellissimo, e da, sponsor, è qualcosa di incredibile, guardate che cos'è, guardate cosa è, guardate, cosa è, questo colore, è stupendo, e, c'è un colore, che è, mamma mia, li tuscio, mi pare, questo, che è un top, violaceo, grigiato, intenso, che è qualcosa di, incredibile, è forse uno dei più burrosi, guardate che cosa è, per non parlare di questo, viola shimmery, guardate che cosa non è, mamma mia, è incredibile, è incredibile, questo colore, cioè, lo devo passare più volte, è incredibile, l'opaco è questo, alla fine vi ho fatto il los watch, tutta la paletta praticamente, ma come, come non farle, è questo, cioè ragazzi, cos'è questo? Vabbè, devo dire altro, è stupendo, vabbè, visto che ci sono, vi faccio anche questo, e l'ultimo, anche questo, è stupendo, si tratta di un chiaro, brillantinato, anche qui, con un leggero, leggero duochrome, sull'oro freddo verde, è stupenda, stupenda, io, onestamente, vi aggiornerò, su qualità, durate, eccetera, ma, onestamente, non ho dubbi, perché, comunque, conosco, l'ombrette di Anastasia Beverly, e non vedo, perché questi, dovrebbero, deludermi, rispetto ad altri, sinceramente, io, la amo alla follia, io, quest'anno, ve l'ho detto tante volte, non comprerò tante palette, ma, questa, è proprio, la mia palette, non c'è niente da dire, e, intendo, sfruttarla tantissimo, e, vedrete tanti trucchi, con questa palette, perché, la, adoro, tornando da Sephora, vi mostro, invece, dei prodotti, che io avevo, in wishlist, da tanto tempo, primo, fra tutti, questo, gloss, di Fenty Beauty, in colorazione, Fenty Glow, è famosissimo, tante di voi, tantissimi, me l'hanno consigliato, tante mi dicono, che, non ne vale la pena, nel senso, che, comunque, si trovano, anche nello costo, dei prodotti, molto validi, e simili, questo non ho dubbio, nel senso, che, nello costo, ci sono tante cose, meravigliose, ma io, lo dovevo assolutamente, provare, oggi, è il primo giorno, che lo indosso, con la matita, cappuccino di neve, tra l'altro, quello che vi, posso dire subito, a parte l'effetto, il colore, che mi piace tantissimo, ovviamente, è che, non lo avverto, sulle labbra, non fa pappetta, non mi fastidisce, e non appiccica, e lo sento, anche, morbido, idrettante, nonostante, cioè, morbido, idrettante, nel senso, buono del termine, nonostante, non mi, non lo avverta, non so come dire, questo è il colore, stupendo, credo, che lo userò, tantissimo, anche qui, vi aggiornerò, assolutamente, poi, un altro prodotto, che volevo, da tanto, provare, è la, famosissima, Cicapère, in questo caso, mi sono rivolta, alle mini taglie, secondo me, il fatto che esistano, le mini taglie da Sephora, è una cosa stupenda, perché, per quanto possano, non essere convenienti, in senso stretto, rispetto alla taglia grande, vi danno l'opportunità, comunque, di acquistare un prodotto, e provarlo, che comunque, costa molto meno, della taglia grande, per quanto riguarda, la skin care, tra l'altro, non è una cosa così sciocca, colpare la taglia piccola, se le dimensioni, sono comunque ragguardevoli, qui si tratta di una crema, avete presente, se usate una crema, quotidianamente, quanto dura, la Cicapair, di Dottor Giart, è famosa, per essere una color correcting cream, una crema, che agisce principalmente, su macchie, e rossori della pelle, sapete che io, soffro abbastanza, non di macchie solari, ma, di macchie dovute, a vecchi acne, di rossori, e di infiammazioni, in termini di colorito, sulla pelle, ed ero curiosissima, di provare questo prodotto, assolutamente, quindi, questa era una delle cose, che volevo da tanto, sto cercando, anche qui, lo scontrino, allora, così vi dico tutto, la palette, di Anastasia Beverly Hills, come sapete, costa 49 euro, poi, il, ehm, gloss, di Fenty Beauty, ve lo dico subito, costa, 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 costa 17 euro, e la mini taglia, della Cicapair, di Dottor Giart, costa, appena la trovo, non la trovo, vediamo quello che può essere più, simile, eccola qui, 13 euro, e 50, poi, sempre sulle mini taglie, volevo provare da tanto, il famosissimo, fissatore make up, all nighter, di Urban Decay, long last make up, set in spray, sapete che io amo, questo di MAC, per il suo effetto pacizzante, il primer water, di Smashbox, per il suo effetto, idratante, sulla pelle, e, volevo assolutamente, provare questo, per l'effetto durata, perché dicono, essere imbattibile, per far durare a lungo, il make up, anche qui, ho voluto acquistare, una mini taglia, perché credo sia più, che sufficiente, in questo caso, l'ho pagato, 15 euro, 50, una volta, che ero nelle mini taglie, invece, un prodotto, che assolutamente, non avevo pensato, di acquistare, ma quando, mi sono, trovata davanti, alle mini taglie, di Milk, l'ho voluto, assolutamente, provare, appunto, un blush, in crema, di Milk, Milk, è arrivata, finalmente, in Italia, si tratta, di un brand, famosissimo, all'estero, di cui, ho sentito, parlare benissimo, praticamente, da tutti, e, vista l'occasione, ho voluto, iniziare, provando, questo blush, è un blush, stupendo, l'ho pagato, Milk, 12 euro, si tratta, di un prodotto, in stick, ce l'ho addosso, in questo momento, come tutto, del resto, questo è il colore, si tratta, di un rosa antico, non freddo, comunque, che mi ha ispirata, tantissimo, sapete bene, che io, non sono, una, da prodotti, in crema, sul viso, li ho spesso declatterati, quando ho fatto i miei declatter, però io, di questi, ho sentito parlare, molto bene, anche le persone, che come me, non usano, volentieri, i prodotti in crema, quindi, vista l'occasione, l'ho voluto provare, devo dire, che oggi, l'ho utilizzato, prelevando, il prodotto, col culetto, della spugnetta, inumidita, che ho usato, per mettere il fondotinta, per andare a amalgamarlo, bene nella pelle, per non rischiare, di portarmi via il prodotto, facendo la strisciata, o usando le dita, in questo modo, l'effetto, mi piace tantissimo, quello che mi piace di più, è questo effetto, molto, è quasi come, se non ci fosse, se il colorito, fosse assolutamente, naturale, e comunque, luminoso, anche se poi, ho messo la cipria sopra, cioè, questo l'ho messo, con il fondotinta, sotto, e la cipria, l'ho applicata dopo, però, mi dà questo effetto, di, di incarnato, naturalmente sano, che mi piace molto, adesso vediamo, quanto mi durerà, sulla pelle, se si mangerà la base, tutte le cose, che, tendenzialmente, mi fanno i prodotti, in crema, però, ripeto, ne ho sentito parlare bene, anche da chi, riscontra queste problematiche, con i prodotti, in crema, quindi, spero, che possa andare bene, per me, questo prodotto, e poi, da Sephora, è successa, una cosa stranissima, sono stata seguita, da una signora, che si chiama, Alessante, che saluto, se mi guarda, perché, poi, parlando, le ho detto, che avevo, un canale, alla fine, avevo già pagato, ero già sulla porta, quindi, il fatto, che io vessi in canale, non ha influenzato, minimamente, il suo comportamento, con me, mi sono trovata, di fronte, a una persona, di una gentilezza, estrema, nonché, di un'enorme generosità, abbiamo iniziato, a parlare, di make up, appassionata, più di me, se possibile, una donna, che lavora, in perfumeria, da più di trent'anni, mi ha riempita, riempita, di campioncini, nonché, mini taglie, è una cosa incredibile, che non mi è mai successa, allora, partiamo, dalle cose, più classiche, ho tre, campioncini, della nuova linea, di, Estée Lauder, la Renutritive, che tra l'altro, credo, costi tantissimo, comunque, ho tre di questi, campioncini, uno dice, vabbè, queste cose, in perfumeria, mediamente, te le danno, ho questa, bustina, di Dior, contenente, questi, rossetti, anche qui, nulla di che, volendo ben vedere, anche questi, sono prodotti, che ti danno, e con questo, io sarei già stata felice, poi, altri, campioncini, che normalmente, danno in perfumeria, ovviamente, dei campioncini, fondotinta, di Estée Lauder, ok, ma poi, allora, anche questi, due, Genifique, di Lancome, ma anche questi, sono campioncini, che danno normalmente, però capite, che è già tanto così, ma poi, mi ha dato, questa pochettina, di Lancome, che finisce direttamente, nella mia borsa, mi piace, ne impazzire, ha un color, bianco, rosa, pallido, cipria, stupendo, poi mi ha dato, una mini taglia, di un rossetto, di Yves Saint Laurent, rosso, che non è il rosso, che io ho già, è un rosso, più fragola, vorrei dire, questa me la date in omaggio, e questa è la mini taglia, del rossetto, di MAC, che ho comprato, ok, quindi, è un bel regalo, devo dire, assolutamente, poi, il rosso, lo sapete, che lo adoro, poi, due, mini taglie, di CKR, lei, mi ha detto, che funziona benissimo, che l'ha usato anche lei, sulla cuperosa, e che si è trovata, molto bene, ve lo volevo far vedere aperte, per farvi capire, quanto siano grandi, così, io praticamente, tra, la mini taglia, che mi sono comprata io, e questi sample, ho la, la confezione di vendita, poi, un gel, viso, di Laneige, della stessa linea, della maschera, che ho in utilizzo, questo è, l'water, bank, hydrating gel, io, adoro le formulazioni, in gel, specialmente di giorno, e lo sapete, e anche qui, stiamo parlando, di una taglia, di questo genere, e inoltre, non è finita qui, mi ha regalato, una sample deluxe, del, all nighter, di Urban Decay, fantastica, per andare in viaggio, ad esempio, questa, non l'aprirò, e la terrò, nella pochette da viaggio, a me, una roba del genere, non è mai capitata, devo dire, che è stato, un momento piacevole, in cui, due super appassionate, quasi malate, di make up, si sono confrontate, abbiamo parlato, un sacco, non ho voluto dire, subito, che avrei un canale, perché non mi piace, non lo faccio mai, quasi nessuna, delle persone, da cui vado, normalmente, sa che ho il canale, anche da Douglas, dalle persone, che mi, mi seguono sempre, sinceramente, non lo sanno, non lo dico, non mi piace dirlo, e quindi, niente, però, alla fine, parlando, lei mi ha chiesto, come facessi, ad essere, così, appassionata, a saperne, così tanto, del tema, allora, alla fine, ve l'ho detto, le ho lasciato, i riferimenti del canale, quindi, probabilmente, mi seguirà, e questo, è tutto il mio bottino, di sefora, di cui sono, felicissima, un'ultima cosa, di cui vi voglio, assolutamente, parlare, è un regalo, che ho ricevuto, da una mia iscritta, Raffaella, che non smetterò mai, di ringraziare, Raffaella, è una ragazza, che fa, vigioteria, la produce artigianalmente, completamente a mano, con una tecnica, particolare, che io non so pronunciare, si scrive, Soutake, ed è la tecnica, che veniva utilizzata, in Russia, per ricamare, gli abiti, degli zar, lei con ago, filo, nastro e pietre, fa dei gioielli, bellissimi, mi ha voluta, omaggiare, mi ha voluto regalare, due paio di orecchini, non li ho scelti, nel senso, che lei ha voluto pensare, mi ha chiesto, se, così, mi poteva far piacere, avere delle cose, pensate da lei, per me, lei mi segue da tanto, ci sentiamo privatamente, e mi ha dimostrato, veramente, a parte una generosità, incredibile, e, mi ha dimostrato, quanto è brava, mi ha dimostrato, un'attenzione, incredibile, perché, mi ha regalato, delle cose, che avrei scelto, senza ombra di dubbio, questi orecchini, sono qualcosa, di spettacolare, sono tutti fatti a mano, dietro, sono rivestiti, da ecopelle, sono favolosi, io spero, che li possiate vedere bene, sono qualcosa, di incredibile, e poi, un paio, li ha regalizzati, apposta per me, con il mio colore preferito, guardate, cosa non sono, questi orecchini, ho fatto, ma anche una foto, su Instagram, e su Facebook, che ha avuto, tantissimi like, che mi avete chiesto, tantissime informazioni, sul lavoro, di questa meravigliosa donna, e io vi consiglio, se la cosa vi interessa, di contattarla direttamente, vi lascio qui sotto, tutti i suoi riferimenti, io sono onorata, e quasi imbarazzata, per il meraviglioso regalo, che ho ricevuto da lei, tra l'altro, mi ha scritto, una letterina, bellissima, dove non solo, mi spiegava come lavora, ma mi ha scritto, anche delle cose, molto belle, e poi, mi ha regalato, un ciondolo, che è un ciondolo, a forma di sole, che ho deciso, di regalare, alla mia bambina, voglio metterglielo, a una catenina, d'argento, e voglio, che lo porti con sé, purtroppo, non l'ho aperto, comunque, ecco, non voglio perdere tempo, ora, perché già il video è lungo, è questo ciondolo, che voglio che abbia sempre con sé, lo trovo bellissimo, e ha un valore, perché, quello che ci siamo scambiate, è stato bello, quindi sono molto contenta, che anche la mia bambina, abbia qualcosa di suo, io veramente, veramente, adoro, questi orecchini, e se mi conoscete, non potete che, credermi, perché mi vedete, che cosa uso normalmente, penso di avervi volto vedere tutto, spero che in qualche modo, il video vi sia piaciuto, scrivetemi qui sotto, cosa pensate di a me acquisti, se intendete comprare la paletta, ad esempio, cosa ne pensate del gloss, insomma, fatemi sapere, come sempre tutto, noi ci teniamo aggiornati, su tutto quanto, vi dirò tutto, il merito ai prodotti, di cui vi ho parlato oggi, nei prossimi video, come sempre, vi ringrazio, vi mando un bacio, e alla prossima, se vi va, ciao! Ciao!